Mamma, voglio andare a Queen's Square a vedere la sfera stasera. Come sarebbe? Quando arriva un nuovo anno, i miei propositi per l'anno nuovo. C'è chi vuole cambiare vita. Non avrà paura dell'altezza. Chi aspetta il primo bacio. Chi aspetta e basta. C'è chi vuole avere un'altra chance. E c'è chi odia il Capodanno. Piccoli e grandi pezzi di vita. Piccole e grandi storie d'amore. Siamo arrivando! C'è le croste con le trombette! Per il ciclo Batti Vecchi d'amore, Capodanno a New York. Questa sera, in prima serata, sulla 5. Questa sera, in prima serata, Grazie a tutti.